Speaker di questa prima edizione del TEDx Salerno, Sio Di Simba, tra le 100 migliori startup europee secondo Pioneer, e vincitore del programma Shark Tank. Ha raccontato con una fiaba ai suoi figli e a milioni di persone cos'è davvero un fallimento. Fallire non è una cosa totalmente negativa. Il successo di un fallimento, Andrea Visconti. Grazie per un fallito parlare dopo una donna di grandissimo successo come Sonia Peronacci, scusa una figata, poi farlo qua al TEDx, anzi grazie agli organizzatori per avermi invitato, perché è veramente la cosa più, la soddisfazione più grande forse in questo momento. E tra l'altro poi Sonia mi ha anche introdotto, concludendo il suo intervento parlando del fallimento. Io mi presento, sono Andrea Visconti, come mi hanno già anticipato prima, e sono innanzitutto un marito di mia moglie Francesca, santa donna, e sono papà di Filippo, di Riccardo, da un mesetto a questa parte, anche di mia figlia Diletta. E sono un imprenditore fallito. Ma oggi non vi voglio parlare del fallimento della mia startup, quanto più del successo del fallimento della mia startup, che si chiamava Simba, ed era un sistema che serviva per pagare nei negozi senza fare coda alla cassa. Come è stato anticipato prima abbiamo vinto questo talent show d'Italia 1 che si chiamava Shark Tank, abbiamo vinto 250.000 euro, poi mi ci è inserito, insomma, abbiamo avuto un po' di premi, un po' di investitori, ma nonostante questo, alla fine, insomma, le cose non sono andate come speravamo. La cosa che mi interessava di più era poter spiegare ai miei figli che era fallita l'azienda di papà, ma non era fallito papà. E per farlo, siccome i miei figli sono dei bambini piccolini, ho pensato di fargli una video fiaba, un po' perché è il linguaggio più adatto, forse no, per i bambini. Poi, siccome i miei figli sono nativi digitali, la fiaba digitale video sui social, appunto perché i miei figli sono nativi digitali, e questa fiaba poi l'ho pubblicata sui miei canali social e in pochissime ore è diventata virale, andando su tutti i giornali, le radio, le televisioni. Tra l'altro qualcuno ha visto la fiaba, ho sentito parlare di questa storia? Dai, qualcuno, sì. I video che dici che ha fatto, qualcuno anche in questa sala l'ha vista. Allora, siccome il mio microfono non funziona veloce, ovviamente no, è fallito. Allora, magari ricominciamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.